Non ho fatica a intervenire, però intervengo per dire due cose, facilmente. Una è che ci lamentiamo che questa maggioranza viene sempre stata una maggioranza super, quando questa va proposta alla risoluzione. Oggi ci viene data l'opportunità di questo Consiglio Comunale di sfiscerare tutte le nostre animo tradizioni, ci posso mettere all'interno di una maggioranza delle opinioni diverse, e quando questo, in un Consiglio Comunale come questo, a me lo pubblico, alla luce del suono, sul fatto importante, la maggioranza, con una varie facce, pare che ti ha lo sbattato, pare che ti ha lo sbattato. Allora io andavo a rispettare, se è giusto che la maggioranza vada a uno con il sole, e la vero che leggi ha detto, e oltre a un'altra, quando ci sono in aula, ci rida lo stato. Io vi dico che oggi noi stiamo discutendo di tutti i valutatori che valutano in una situazione, ma noi come amministrazione ci siamo posti il problema di voi che non va diventare, ma al tempo avvicinano un'am, un'am, un'am che è iniziale, perché dovrebbe capitare, c'è un capitato di qualche comune così vicino, che è una struttura che funzionava regolarmente, per un condizioso aperto, che è stata taricamente proclata e che è stata pure da 23 anni. Allora io direi che le opzioni che ci sono in campo sono due, o ritirare l'atto, cercando di parlare con la distinia, anche a fondo di un fatto nuovo, che io non conoscevo, perché noi da queste servizie giudizio li possiamo parlare, o non abbiamo messo, perché io ritenvo che comunque sia un'ottima situazione, i punti che l'amministrazione è messo in risultato su uno, la possibilità di vedere che stavano guardati in livello coazionale delle persone che lavorano e che hanno lavorato e che sono stati giustamente licenziati, due, la ridicostezione a causa di un, in, diciamo, una nuova situazione socio-economica, cioè sono stati nove anni, quello a presenta per voi, per oggi, come diceva qualcuno, e quello non vogliamo, cioè in risposta, diciamo, del risultato. E quindi ritengo che questi debbano essere i punti su cui io non vorrei di tirare l'altro, di tirare l'altro, di fare un passaggio con la professiglia, se ci sono i beni, allora, di tirare l'altro, di tirare l'altro, fare un passaggio con la professiglia per vedere il decisione, e passare l'altro, di tirare l'altro, di fare un passaggio con la professiglia, se ci invia, noi lo chiamiamo tutta attento, all'opinità dell'altro, dico quello che io penso, all'opinità dell'altro, fare un passaggio con la professiglia, con la professiglia, e cercare, ragazzi, se ci dovete, per il posto di vita, cercare di trovare, una, il condensore con i lavoratori responsabili licenziati, ma, ovunque, ma, nel mezzo, dei due responsabili, tre santi come, dico, eh, come è, eh, quindi, con la professiglia, il fine, con la professiglia del canone, è, cercate di, partire, o un'unica storia, non di come si sono, raccogliore delle fristole, ma, che altro, un uomo importante, a vita, che non di questa, diciamo, due problemi, grazie, grazie, a chi dice che deve venire per un attraverso The healingidad i protestsibili massa di Roma, che va a far andare odiare lì, Caitlin Rodroios e la famiglia su, grazie a tutti i mieiizi sociali, grazie a tutti i miei familiori, grazie a tutti i mieiああi, grazie a tutti i miei Bonephi,